Musica Vittorian ha una storia di quasi 60 anni, viene prodotto negli Stati Uniti, nasce nelle sale operatorie americane per la sua particolarità di essere non poroso, quindi inattaccabile da virus, batteri, muffe e questa sua caratteristica la mantiene sia in interno che in esterno. Quindi è fondamentale, è il primo punto fondamentale del Corian. L'illuminazione nel mondo della progettazione si sposa sempre di più con i materiali, quindi quando hai la possibilità di utilizzare un materiale che può essere retroilluminato, il Corian offre nella gamma di 100 colori in EMEA, quindi Europa, Medio Oriente, Africa e il Global, quindi in tutto il mondo quasi 200 colori, offre la possibilità di avere delle tonalità di colore traslucenti, proprio nascono traslucenti, altre invece non lo sono, chiaramente i colori pieni, i coprenti non lo sono, ma nelle tonalità traslucenti è possibile creare con l'intensità di lux delle tonalità appunto di colore più o meno gradevoli o forti. È un'altissima resistenza a raggi ultravioletti, non cambia colore, non si deforma, non si delamina, è riparabile, ripristinabile e lavabile con un'idropulitrice, per cui si può ripulire un intero edificio in 24 ore, con un carro ponte e un'idropulitrice. Un aspetto molto positivo nella parte bassa, dove ci sono i graffiti dei vandali fatti con vernici, possono essere rimosse con una semplice azione di pulizia. Sia all'interno che all'esterno le lastre possono essere termoformate, piegate, con raggi di curvatura anche abbastanza ridotti, le parti curve possono essere poi aggiuntate a quelle piane senza vedere le giunte, e questo ci dà modo di ottenere delle lastre tridimensionali, anche molto ampie, con una forma che scegliamo noi. Il tutto nasce da una lastra senza stampi plastici, perché in realtà il corian è come una pietra fatta dall'uomo, perché per due terzi è tridato da alluminio derivato da bauxite e senza difetti della pietra, per cui non assorbe nulla, è completamente a cellula chiusa, tutto ciò che ci mettiamo sopra può restare sopra, ma non va all'interno, per cui si elimina facilmente con un'azione di pulizia. È alimentare, è certificato per il fuoco, è antibatterico, ha tante caratteristiche positive che lo rendono utilizzabile in tantissimi sottori mercologici.